Sì alla libertà d'espressione, no al colpo di Stato, lo ha detto il presidente egiziano Mohamed Mursi in un discorso alla Nazione. Mursi ha anche invitato l'opposizione a sedersi al tavolo, ha proposto un incontro per sabato e ha confermato che il contestato decreto con il quale ha protetto le proprie decisioni e eventuali interventi dall'autorità giudiziaria prenderà fine non appena la nuova Costituzione sarà stata convalidata dal referendum. Se i cittadini la rispingeranno, ha aggiunto, formerà una nuova Costituente. L'intervento di Mursi era atteso nelle prime ore del pomeriggio ma è slittato fino alla tarda serata. Nelle ore precedenti l'opposizione aveva confermato che non intende rispettare il divieto di manifestazioni imposto nelle zone centrali del Cairo e aveva proclamato un nuovo venerdì di protesta con manifestazioni anche nella zona off-limits del palazzo presidenziale dove gli scontri della vigilia avevano causato almeno sette morti. I manifestanti favorevoli al presidente Mursi in giornata si erano ritirati allo scadere dell'ultimatum che imponeva il divieto di manifestare. Da parte dell'opposizione si erano invece registrati almeno tre cortei apparentemente diretti verso il palazzo presidenziale ma pare si siano sciolti prima di giungervi. Appuntamento soltanto rinviato di un giorno.